Musica Musica Adriano Giornana, presidente della zona di Borgo San Dalmazzo di Confartigianato in Prese Cuneo. Stiamo parlando di artigianato, artigianato di eccellenza, artigianato di qualità, stiamo parlando di imprese artigiane, queste imprese artigiane che hanno tenuto le aziende aperte nonostante le difficoltà della lunga crisi, oggi vedono degli orizzonti più sereni? Sì, una parte delle aziende vede degli orizzonti più sereni, certamente sono le aziende quelle più radicate, quelle magari con struttura maggiore rispetto all'altra, quelle che hanno avuto la forza di differenziarsi, magari di andare a cercare anche dei mercati un attimino diversi. Noi abbiamo degli artigiani che sono spostati, sono andati in Francia o da altre parti, tanti poi hanno un po' rivisto i propri prodotti, le proprie cose. Abbiamo ad esempio un artigiano di Borgo San Dalmazzo che ha creato dei lampadari veramente eccellenti e ha avuto la possibilità, anche attraverso la Confartigianato, di fare delle fiere importanti ed è riuscito a vendere tanti di questi prodotti che sono prodotti certamente innovativi e nuovi. Nell'enogastronomia poi abbiamo delle aziende del territorio che veramente hanno creato dei prodotti e stanno esportando praticamente in tanti paesi del mondo. Il valore artigiano, questo valore artigiano che è stato esaltato in queste ultime iniziative di Confartigianato Imprese Cuneo per mettere in evidenza quanto nel tessuto economico del nostro territorio conti il comparto stesso. Dobbiamo tenere presente che una grande parte delle aziende del territorio, quelle che hanno mantenuto l'occupazione, sono aziende artigiane, sono aziende dove la famiglia ha una propria importanza, dove il valore artigiano, dove il piacere di lavorare in un certo modo, di dare un prodotto di qualità, un prodotto di nicchia, un prodotto che si differenzi, fa ancora oggi la differenza. Quindi l'azienda artigiana oggi sul territorio vedo che sia veramente un baluardo per mantenere anche dei livelli di occupazione importanti e dei livelli di formazione degli apprendisti, delle persone che vogliono ancora stare sul territorio. Perché la grande azienda, la media azienda purtroppo in questi anni anche grazie all'innovazione tecnologica sta riducendo continuamente il proprio organico. Invece l'azienda artigiana ha la forza di essere presente sul territorio, di dedicarsi a dei lavori magari un attimino più piccoli ma importanti per il territorio. Parliamo anche della presidenza Crosetto di Confartigianato Impresecuna, arrivata a metà mandato, un suo giudizio sull'attività finora svolta? Penso che questa nuova presidenza abbia creato dei presupposti un attimino più moderni, un attimino più giovanili. Parliamo dei creatori d'eccellenza, quindi aver avuto il coraggio di dare valore alle aziende artigiane che trasformano i prodotti, quindi dare valore ai cuochi, dare valore alle panetterie, a queste strutture del territorio, per me penso che sia una cosa importante. Complessivamente il giudizio personale è positivo sull'operato. Guardando al futuro l'artigianato è ancora una grande opportunità per i giovani? Ma certamente che è una grande opportunità per i giovani, chiaramente non bisogna pensare all'artigianato come l'abbiamo pensato fino a ieri, cioè dobbiamo pensare a un artigianato innovativo, un artigianato che crei dei prodotti che siano anche un attimino di nicchia, magari utilizzando le stampanti 3D o tutto quello che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Noi oggi abbiamo la possibilità di utilizzare la tecnologia anche come artigiani, una volta c'erano delle tecnologie che erano riservate solo alle grandi aziende, solo a chi aveva grandi possibilità economiche. Oggi invece la tecnologia ci consente anche con investimenti che sono alla portata di alcune, di molte aziende artigiane di poter veramente creare prodotti innovativi e diversi. Daniela Minetti, presidente della zona di confartigianato di Saluzzo, anche questa è una zona molto interessante per Confartigianato Imprese Cune, è una zona storica, è una zona che parla tanti linguaggi degli artigiani, tante imprese che hanno affrontato la crisi, l'hanno superata oggi, guardano con più fiducia al futuro? Sì, sicuramente la zona di Saluzzo è una zona importante per la Confartigianato in quanto conta circa 1000 iscritti e il futuro tutti guardiamo con ottimismo il futuro perché gli artigiani in genere fanno così. Di solito cerchiamo sempre di vedere con ottimismo il futuro altrimenti ci saremmo fermati, invece continuiamo a produrre, a creare nuove attività, cercare di risollevarci dalla crisi. Si parla tanto di internazionalizzazione, ecco, da voi e nella zona, questo è un linguaggio che si sta utilizzando nel lavoro? Alcune aziende, specialmente quelle un po' più strutturate, riescono a approcciarsi bene col commercio estero e si spera di continuare così e anche altre aziende un po' più piccoline, con l'appoggio magari delle associazioni come Confartigianato, riescono anche loro a esportare il loro prodotto. Quanto è cambiato il lavoro artigianale attraverso la tecnologia? Sicuramente è cambiato molto perché il lavoro manuale è sempre molto importante ma la tecnologia ci dà una mano e ci risolve magari quei problemini che prima non riuscivamo a risolvere, quindi ben venga la tecnologia per i tempi moderni. Donna e artigianato, ecco, un binomio facile o ancora complesso? Un pochino di difficoltà ci sono sempre, specialmente delle donne che sono da sole, titolari d'impresa, perché ci sono dei problemi per l'accesso al credito, però le donne non si fermano mai, vanno avanti, combattono e cercano di fare valere le loro ragioni. L'artigianato è un'opportunità anche per i giovani? Secondo me, io continuo a dire a tutti che i giovani non possono fare tutto il liceo, devono inserirsi in scuole magari più tecniche, istituti tecnici, perché l'artigianato non può morire, non deve morire e può dare delle opportunità lavorative perché si può sicuramente dare sfogo al proprio estero, cosa che magari invece in fabbrica o solo chiuso in un ufficio non si può fare. Un bilancio della presidenza Crosetto che è arrivato a metà mandato e che ha portato sicuramente anche una marcia più elevata nel fare le cose, nel creare nuove iniziative a supporto delle imprese? Io credo che qualsiasi, negli ultimi anni i presidenti della Confartigianato hanno fatto molto, hanno visto molto lontano, si continua così, quest'anno con l'iniziativa creatore d'eccellenza si è cercato di dare un valore aggiunto alla nostra eccellenza del territorio che sono appunto i cuochi che noi crediamo che siano artigiani e quindi valorizzando il territorio non possiamo fare che fare bene alle nostre imprese. Clemente Malvino, presidente della zona di Fossano di Confartigianato, lo stato di salute delle imprese artigiane della sua zona? Beh, indubbiamente c'è una crisi permanente che a quanto pare sembra non finire ancora. Fossano sta pagando lo scotto sicuramente dell'indotto della chiusura di molte aziende di una certa dimensione come la Mislene e via dicendo, ridimensionamento di altre come la Agnesi e via dicendo. Tutto sommato diciamo che il territorio tiene, tiene per quanto riguarda la capabilità proprio dell'artigiano, della sua indole, quella di saper affrontare le problematiche, quella di chiudere i denti e di cercare appunto di bypassare questi momenti che per me non sono ancora felici, non sono ancora floridi. Le attività di Confartigianato si spingono proprio nella promozione dei vari mestieri artigiani, nel sottolineare il valore artigiano come leva di crescita imprenditoriale? Ma guarda, sicuramente guarda, io presumo che una delle migliori leve sia proprio quella di cercare di invogliare i giovani. Per quanto riguarda Confartigianato ha una bella storia, ha un grande passato e io vorrei che avesse ancora un grande futuro. Di conseguenza molti sono i nodi, molto Confartigianato ha fatto, molto rimane da fare sicuramente. Diciamo che il succedersi di governi non ha, diciamo, sotto un certo profilo aiutato molto per quanto riguarda il mondo artigianale. Che che se ne dica, il fatto dell'istituzione della fattura elettronica, io presumo che abbia creato per quanto riguarda per il mondo artigiano un'incombenza in più. E tutto, purché di incombenze, di problematiche, l'artigiano ha bisogno. Più attività sindacale in Confartigianato o più servizi? Sono due cose che vanno di pari passo. Sicuramente l'azione sindacale forse serve a prevenire il sorgere di problematiche che sicuramente va affrontato in una maniera molto, diciamo, fortemente, con un impatto. Dall'altra parte, sicuramente, se sorgono i problemi, sicuramente buona regola è cercare di soddisfare le esigenze dell'artigiano e presumo che Confartigianato sta cercando, proprio in questo momento, anche con l'inserimento di una nuova tematica per quanto riguarda, di soddisfare queste esigenze. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS